Il Cinema Filo, in collaborazione con Antonio Capra, organizza il nuovo corso cinema per il 2023. Un vero e proprio laboratorio di 15 lezioni, al termine del quale gli studenti realizzeranno un loro cortometraggio che verrà proiettato in una serata speciale al Cinema Filo. Durante il corso i partecipanti accederanno inoltre a proiezioni speciali scelte per completare il loro percorso formativo. Per informazioni e costi di iscrizione rivolgiti alla biglietteria o su www.cinemafilo.com Vi aspettiamo! Grazie!